Io non mi sono mai sentito un avversario dei miei colleghi che fanno parte della maggioranza nel nostro territorio aretino, da dove hanno preso i voti, ma evidentemente loro mi vedono come un avversario e quindi quando io ho diffuso fra l'altro in maniera molto alla lettera quello che era appunto l'impegnativa della mozione emendata, mi hanno attaccato dicendo che io faccio fake news, dicendo che io illudo gli aretini. Io ho solamente riportato un fatto di cronaca che è scritto nei verbali della regione toscana e che anche gli organi di stampa ufficiali della regione toscana hanno comunicato. Non ci sta il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri ad essere accusato di diffondere appunto fake news sul possibile ritorno della chimera custodita come sappiamo a Firenze nella sua città ovvero Arezzo. E allora spiega ai nostri microfoni come è davvero andata. Grazie dell'opportunità che mi dai di parlarne perché io ho fatto una mozione ormai qualche mese fa e è stata portata in consiglio e poi è stata spostata in commissione. In commissione sono stati auditi il presidente del museo che appunto la custodisce, è stato audito il presidente dei musei toscani e non hanno però esposto, espresso pareri tecnici negativi. Hanno espresso dei pareri che dicevano no ma la chimera sta bene a Firenze, no ma quando è venuto Arezzo ha fatto poco audience e io ho ribattuto e controbattuto diciamo quelle che erano le loro istanze. Poi alla fine della discussione è venuto fuori che in commissione avremmo fatto un atto comune per valorizzare appunto questo progetto che io chiedevo. Io nella mozione chiedevo che la chimera venisse ad Arezzo in maniera definitiva però avevo anche il piano B che è quello che la chimera anche se fosse venuta per un periodo diciamo avrebbe comunque soddisfatto le nostre esigenze e grazie al lavoro della commissione è stata fatta questa mozione, è stata approvata all'unanimità e la chimera avrà la possibilità di venire ad Arezzo e fra le varie impegnative che avevamo chiesto c'era anche quella che la regione toscana si impegnasse a valorizzare appunto questi eventi e a farsene anche carico a livello di comunicazione. Subito dopo l'annuncio era stata la presidente della commissione Cristina Giacchi e i due consiglieri aretini Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis ad accusare veneri di diffondere fake news. È del tutto scorretto avevano detto e furviante far credere agli aretini che l'approvazione della mozione preveda l'automatico ritorno della chimera ad Arezzo. Questo non può essere deciso dal consiglio regionale e il consigliere veneri dovrebbe saperlo. Se ognuno di noi lavorasse realmente per il territorio e non fosse un dipendente del partito e quindi lavorasse solamente per la loro ideologia politica e per il loro gruppo probabilmente la città di Arezzo, la provincia di Arezzo e tutta la Toscana otterrebbero dei risultati migliori. Io però non mi faccio intimidire. Continuo a lavorare per il nostro territorio e per tutta la Toscana portando avanti quelli che secondo me sono i lavori da fare.